E' pienamente sotto controllo l'incremento dei casi covid in provincia di Salerno dove nonostante due focolai a centole in costiera amalfitana il tasso di incidenza è ben al di sotto della media regionale. In provincia di Salerno è infatti dell'1,94% l'incidenza dei positivi mentre in tutta la regione del 2,44%. Decisamente al di sotto della media regionale quella registrata nel comune di Salerno nel capoluogo ci sono 41 positivi nell'ultima settimana ed un tasso di incidenza dell'1,30%. Come dicevamo in provincia di Salerno le situazioni più a rischio sono quelle nel Cilento a Centola Palinuro che ha avuto 47 positivi nell'ultima settimana dopo un focolaio che si è registrato nella scuola. Qui il tasso di incidenza è del 15,41%. E' invece del 10 quello che si è registrato nell'altro focolaio in provincia di Salerno. Ad Amalfi ci sono 27 positivi in questo momento mentre un poco al di sotto il tasso di incidenza a Maiori dove attualmente sono 20 i positivi al covid. Da segnalare in provincia di Salerno anche il caso di Padula legato al focolaio di Centola per un insegnante che si spostava tra i due comuni. A Padula ci sono attualmente 12 positivi con un'incidenza sul territorio del 5. A Montano Antilia invece per un caso di covid che ha interessato un docente di Laurito il sindaco Luciano Trivelli ha deciso in maniera precauzionale di chiudere le scuole fino al 6 novembre. Sotto controllo e in perfetta media la situazione nell'agronocerino sarnese da sempre considerato in provincia di Salerno uno dei territori più a rischio. Nel frattempo continua la campagna di vaccinazione per la terza dose promossa dall'Asla di Salerno. Chiunque abbia più di 60 anni e abbia ricevuto la seconda dose da sei mesi può recarsi nei centri vaccinali per sottoporsi alla somministrazione della terza dose. Gli orari e di centri vaccinali a disposizione quasi sempre nel pomeriggio sono reperibili sui siti dell'Asla. L'azienda sanitaria sta procedendo a somministrare la terza dose anche a tutto il personale sanitario e ai fragili anche al di sotto dei 60 anni e alle forze dell'ordine. In questo momento la terza dose prevede la somministrazione di Pfizer o nel caso di Moderna è stato chiarito che verrà somministrata mezza dose. In tutta la provincia di Salerno l'85% della popolazione ha già ricevuto almeno una dose di vaccino, il 75% anche due dosi. Un'altra buona notizia è che le terapie intensive sono al momento completamente vuote. Dei due decessi registrati negli ultimi giorni sono da attribuirsi a persone con patologie gravi.